Venezia. Dopo che ho assistito alla scena me ne sono andato via schifato. Questo il giudizio dell'autore degli scatti venerdì pomeriggio che ritraggono un turista nudo fare il bagno in Canal Grande. Dopo aver fatto il bagno nudo si è rivestito e si è messo anche a prendere il sole, ha detto il testimone. Nessuno ha intervenuto, conclude. Quella che si è appena chiusa è stata un'estate in cui si sono susseguite segnalazioni di vario genere di questo tipo, tra comportamenti caffoni o apertamente contrari al pubblico decoro.